in questo video ho riassunto tutto il processo quindi si svolgerà così per evitare di appunto di essere ripetitiva ho pensato di farlo in questo modo ripercorreremo tutta la vicenda di quella notte del 6 settembre attraverso tutte le testimonianze quindi dei fratelli dei quattro imputati quindi bianchi vincarelli e belleggia tutti gli amici di willy che erano lì quindi praticamente ripercorreremo tutta la notte ho preso le testimonianze di tutti e le ho unite in una linea temporale poi vedremo appunto quindi quali sono diciamo le due linee quella della difesa e quella dell'accusa anzi quella delle difese perché ci sono i fratelli bianchi con una difesa pincarelli con un'altra e belleggia con un'altra vedremo come soprattutto belleggia i fratelli bianchi si accusino a vicenda quello appunto qual è invece la linea dell'accusa del pubblico ministero in questo caso e la condanna finale salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè o all'ora del tè perché lei il negozio le aveva finite ha detto che arriveranno in questi giorni quindi per oggi si è per oggi e vedremo anche nel video di sabato siamo l'ora del tè questo set è provvisorio come vi ho detto non posso più spostare tanto il divano quindi ho cambiato un po la disposizione però il set è ancora work in progress quindi è possibile che vedrete anche altri cambiamenti in linea di massima sarà questo ma ci saranno comunque delle aggiunte adesso vedremo dunque oggi come avete letto dal titolo il nome di questa rubrica del giovedì che come tutti sapete è un tè in pretura mai fu più azzeccato come oggi perché oggi parliamo di un processo italiano oggi parliamo del processo dei fratelli bianchi di belleggia e di pincarelli condannati per aver ucciso willy monteiro duarte sigla quindi il processo che vi racconterò oggi vede imputati come abbiamo detto quattro ragazzi ovvero marco e gabriele bianchi francesco belleggia e mario pincarelli accusati e successivamente condannati di aver ucciso willy duarte un giovane di 21 anni nato a roma con genitori provenienti da santo domingo willy venne ucciso in un pestaggio la notte del 6 settembre 2020 intorno alle 3 20 del mattino a colleferro nel tentativo di difendere un amico i suoi aggressori sono originali di originari di artena già noti alle forze dell'ordine per pestaggi spaccio e riscossione ma la domanda che ci facciamo tutti chiaramente perché cosa spinge quattro ragazzi a causare la morte di un altro ragazzo a calci e pugni federico zurma è l'amico di willy che willy ha cercato di difendere nel momento in cui poi è morto si conoscevano perché avevano frequentato lo stesso istituto alberghiero quindi federico inizia raccontando che quella sera stavano passando una serata a colleferro in una via che è nota per essere piena di locali la classica via che c'è in tutte le città della movida notturna diciamo in questo locale chiamato il due di picche praticamente loro stavano diciamo camminando erano federico con azzurra biasotti e un altro ragazzo che stavano camminando a un certo punto mario pincarelli uno di questi quattro imputati cerca un approccio mettiamola così nei confronti di questa azzurra biasotti chiamandola a bella mandandole un bacio e federico racconta appunto di aver sentito a bella e di aver sentito anche ma perché esci con questi scemi quindi federico e azzurra arrivano da alessandro rosato alessandro rosato è il ragazzo di azzurra che in quel momento non era con loro quindi loro camminano pincarelli tenta l'approccio insomma fischia a azzurra arrivano da alessandro rosato che il ragazzo di azzurra e l'altro amico che era con loro racconta ad alessandro quello che è successo cioè che mario pincarelli ha tentato l'approccio con la sua fidanzata il gesto diciamo del bacio verrà confermato sia da belleggia che da pincarelli perché in quel momento i due imputati erano insieme quindi che succede alessandro rosato va da belleggia e pincarelli che si trovavano praticamente in cima ad una scalinata per cercare di chiarire questa situazione sono francesco belleggia e mario pincarelli era quasi fine la serata stavo le scalette per andarmene faccio un complimento ad una ragazza sempre lì nelle scalette stavo a destra e belleggia stava a sinistra non sapevo che quel ragazzo che stava perché dopo un ragazzo è andato a chiedere spiegazioni a belleggia non sapevo che quel ragazzo è andato a chiedere spiegazioni per quello che avevo detto io a quella ragazza vado a parlare con francesco chiedendo spiegazioni del fatto quindi praticamente belleggia quello che parla con alessandro gli dice guarda ci dispiace il mio amico ha bevuto sai quando beve guarda ci dispiace non volevamo mancare di rispetto a nessuno questo viene confermato anche da pincarelli perché pincarelli dice nella sua testimonianza dice guarda io lavoro tutta la settimana il weekend io inizio a bere dal pomeriggio quindi nel momento in cui ho fischiato da azzurra eccetera era un po' alticcio quindi non mi sono reso conto però la situazione termina lì alessandro belleggia e pincarelli risolvono che succede però qui entra in gioco la testimonianza di belleggia perché belleggia dice era tutto risolto ma io vedevo federico quindi il primo ragazzo cioè l'altro testimone appunto l'amico di willy vedo federico che mi guarda male mi guarda con tono di sfida allora io mi avvicino per dirgli che c'è guarda che io e il tuo amico abbiamo risolto e federico si scalda va da belleggia e comincia a urlargli con chiaramente termini un po' più coloriti che cosa vuoi che cosa guardi in quel momento belleggia racconta che federico ha fatto questo gesto cioè si è tirato con la testa all'indietro come se volesse tirargli una testata quindi lui dice io avevo il braccio sinistro ingessato mi sono sentito in pericolo e ho dato una spintarella a federico ma con questa spinta federico cade dalle scale quindi praticamente cade dalle scale e questo è confermato da tutti gli amici e anche dallo stesso belleggia che dice io non mi sono reso conto cioè non volevo farlo cadere dalle scale volevo dargli una spinta perché mi sono spaventato è stata una mia autodifesa perché lui aveva fatto questo gesto con la testa avevo paura che mi colpisse azzurra e un altro suo amico raccontano di aver visto federico volare giù dalle scale quindi di essere andati da federico per aiutarle e dirgli che cosa è successo e federico ha detto belleggia mi ha colpito quindi appunto sia azzurra che questo amico vanno da federico e dicono che cioè praticamente usano proprio il termine volato dalle scale sbattendo la testa e rischiando di sbattere anche la schiena a quel punto belleggia dice io non volevo far partire una rissa avevo anche il braccio ingessato quindi ho capito avevo paura che quando federico si fosse rialzato mi avrebbe diciamo cercato di colpire insomma di rispondere al mio gesto quindi sono scappato massimiliano un altro loro amico aiuta federico a rialzarsi e vanno a cercare belleggia cioè loro vogliono appunto andare a cercare belleggia che nel frattempo è scappato e qui parte la testimonianza di Omar Shabani Omar Shabani è un amico di Belleggia, di Pincarelli e dei fratelli Bianco che in quel momento lui era seduto su questa banchina Belleggia arriva verso di lui Mentre stavano parlando Federico e i suoi amici riescono a trovare Belleggia caralli insieme a Omar quindi praticamente parte il primo scontro verbale Michele Cercozzi che è un altro amico dei fratelli Bianchi di Belleggia e di Omar conferma che lui era lì conferma di aver visto questo gruppo di ragazzi dirigersi verso Belleggia e Omar quindi Belleggia dice va bene sono andato verso di loro cercando di sperando diciamo di risolvere questa situazione ma un altro testimone Valerio Mantella conferma sì il fatto che Federico stesse in vendo contro Belleggia dicendo che fai prima mi colpisci e poi scappi codardo vergognati ma lui dice che nell'aria c'era proprio l'aria dello sbeffeggio cioè nel senso che Belleggia per quanto voglia passare come la vittima in questa situazione dice lui è andato in faccia a Federico e gli ha detto dai prova a menarmi voglio vedere se ci riesci perché Federico gli ha detto non ti meno solo perché hai il gesso e Belleggia gli ha risposto dai voglio vedere se riesci comunque a menarmi quindi Federico racconta che in quel momento lui e Belleggia hanno iniziato a litigare verbalmente e a tirarsi delle piccole spintarelle sai tipo oh ho capito in questo modo e quindi hanno iniziato diciamo questa litigata però non finendo in una rissa solo diciamo nelle classiche spintarelle a quel punto arriva Willy quindi Willy riconosce il suo amico che si stava dando queste spintarelle e stava litigando con Belleggia quindi si va verso di loro si avvicina e chiede a Federico tutto bene e Federico risponde sì abbiamo avuto un diverbio ma ci siamo calmati perché nel frattempo questa discussione tra Federico e Belleggia è andata avanti per un po' prima che arrivasse Willy ma nel momento in cui è arrivato Willy entrambi confermano che la situazione si era calmata cioè nel senso a forza di darsi le pacchette urlarsi eccetera alla fine la discussione era andata scemando e fondamentalmente si era risolta a quel punto un amico di Willy racconta di aver sentito arrivare una macchina a tutta velocità questa cosa verrà raccontata anche dallo stesso Belleggia io sento in quel momento una frenata brusca la mia attenzione si pista un attimo da una frenata brusca sento uno stridio di gomme provenire dalla parte della caserma sento una macchina che arrivava a qualche velocità provenire da questa strada qui da questa strada qui e spezzare di corpo per entrare dentro la stradina sempre a qualche velocità e arrivare una macchina nella via dove si trovano loro che è la via con tutti questi locali a tutta velocità e in quel momento racconta un altro testimone di aver sentito che la folla ha cominciato ad urlare oddio sono arrivati i bianchi sono arrivati i bianchi ed è arrivata appunto questa macchina che era un Q7 con all'interno i fratelli bianchi Alessandro a quel punto che era il ragazzo di Azzurra vi ricordate Alessandro prende il braccio di Federico e gli dice ce ne dobbiamo andare perché sono arrivati i bianchi e questa è gente pericolosa Ma perché arrivano i bianchi? Che cosa è successo? Quindi noi abbiamo questa vicenda tra Federico e Belleggia che insomma tra un luogo e un altro continua questa rissa che alla fine si risolve e arriva Willy dobbiamo capire l'altro arco narrativo quindi che cosa facevano i fratelli bianchi nel frattempo che Federico e Belleggia stavano litigando per poi riunire le due storie in questo punto in cui i fratelli bianchi arrivano con la macchina Allora i fratelli bianchi sono Marco e Gabriele che quella sera avevano deciso di passare la serata a Colleferro insieme ai loro amici Omar Sciabani, Michele Cercozzi e Vittorio Tondinelli Quindi i fratelli bianchi e i loro amici arrivano a questo bar verso mezzanotte e mezzaluna anche loro a questo tre di cuori per vedere delle ragazze in particolare una ragazza con cui Marco bianchi si stava frequentando Nel frattempo Omar Sciabani e Michele Cercozzi avevano lasciato le loro ragazze in un altro bar in un altro bar lontano e questo dettaglio importante lo vedremo dopo Quindi praticamente che cosa succede? Loro passano questa serata lì Poi a un certo punto Marco e Gabriele Bianchi insieme a Vittorio Tondinelli vanno con altre tre ragazze in un parcheggio nei pressi del cimitero per appartarsi lasciando Omar e Michele lì al bar Quindi praticamente che cosa succede? Loro vanno al cimitero quindi fondentemente erano tre coppie che vanno ad appartarsi iniziano a fare le loro cose in macchina Ad un certo punto il cellulare di Gabriele squilla ed era Michele ma Gabriele che chiaramente era impegnato con questa ragazza a fare insomma le loro cose non risponde Quindi Michele chiama Vittorio Vittorio risponde e Michele gli dice dovete tornare perché Belleggia sta facendo una rissa, sta succedendo un macello dovete tornare e in più dovete riaccompagnarci a casa perché le nostre ragazze sono arrabbiate Quindi per favore tornate Quindi Vittorio lo dice a Gabriele e Marco ma non prendono la situazione molto sul serio quindi decidono di rimanere un'altra mezz'oretta cioè di non ascoltarli fondamentalmente di dire no vabbè ma loro hanno testimonato sicuramente stava esagerando non hanno capito la gravità della situazione Quindi nel frattempo Michele continua a chiamarli Ad un certo punto dopo una mezz'oretta risponde a un'altra chiamata di Michele che stava nel frattempo continuando a chiamarli e Michele gli dice guarda che c'è una rissa per favore noi dobbiamo tornare dalle nostre ragazze ma non ci vogliamo immischiare Belleggia sta facendo un macello Anche lì lo stesso Gabriele Bianchi dice sul momento non ci siamo agitati siamo rimasti altri dieci minuti al cimitero prima di ripartire ma questa cosa è discordante con quello che è stato dichiarato dallo stesso Gabriele Bianchi alla polizia quando fu preso quindi nella sua prima testimonianza perché nella sua prima testimonianza dice che alla seconda chiamata loro si sono agitati e sono andati con la macchina a vedere insomma che cosa stesse succedendo quindi ricongiungendosi con i loro amici e questo potrebbe spiegare perché sono arrivati ad alta velocità quando hanno fatto la curva di quella via come hanno testimoniato gli altri invece qui Gabriele, infatti il pubblico ministero gli fa notare questa cosa noi purtroppo pensiamo, pensando, c'è stata per il giro quella circostanza ha dichiarato parzialmente qualcosa di diverso nel senso che dice io ho capito che seconda chiamata, la voce, il tono di voce letterati e ci siamo subito presentativi quando siamo scesi arriviamo lì tipo poi vediamo un bucchio di persone quindi sembrerebbe, a differenza di quello che ci sta dicendo oggi che nella seconda chiamata lei capisce che c'era secondo lei in una lista perché così non è difficile a Pozzi non che andate calmi che a questo punto vi aspettate per andare la verità, dettaglio per dettaglio è che noi, io l'ho comunicato al mio fratello a Vittorio Dondinelli che il tono di voce di Michele Ciaquazzi era molto molto atterrato e che ci invitava di ritornare però sarebbe una bugia se le dicessi che non sono passati altri dieci minuti da quella chiamata sono ripartito dopo altri dieci minuti perché ancora in quel momento non avevo capito la gravità della situazione però questo non spiega quindi perché siano arrivati a tutta velocità cioè nel senso, infatti poi vedremo che Marco Bianchi dirà che non sono arrivati a tutta velocità che quindi quello che dicono i testimoni non è vero quindi diciamo che la linea della difesa sta cercando di far capire che in realtà loro non avevano capito niente fino a che non sono arrivati lì in quel momento invece l'accusa con gli altri testimoni dice no no, voi siete arrivati tutti veloci e in maniera molto aggressiva poi ci arriviamo quindi aspettano altri dieci minuti e si riavviano per ricongiungersi con Omar e Michele infatti l'accusa dice voi siete arrivati a tutta velocità perché volevate difendere cioè volevate andare ad aiutare il vostro amico in una rissa per partecipare a una rissa perché già in passato i fratelli bianchi si sono resi protagonisti di risse e atti di violenza tant'è che hanno anche diversi, diciamo ci sono anche dei processi nei loro confronti ancora aperti infatti il pubblico ministero dice che a Colleferro i bianchi erano già molto noti tra insomma la popolazione di lì, insomma tra i ragazzi di lì della zona perché erano noti come persone violente e come picchiatori quindi loro in realtà le risse le andavano a fare sempre infatti il pubblico ministero dice per provare questo oltre al fatto che sono gli stessi testimoni e la gente del posto che li conosce e lo sa è provato da tutte le accuse che hanno questi fratelli bianchi tra cui anche procedimenti ancora pendenti che riguardano tutti gli atti di violenza e risse soprattutto in situazioni, le chiama il pubblico ministero, di minorata difesa cioè in poche parole di tutti contro uno quindi il pubblico ministero si concentra sul fatto che questi fratelli bianchi in realtà per loro sia normale fare diciamo queste risse e che nella zona arrivasse prima la loro reputazione degli stessi fratelli bianchi in più il pubblico ministero si concentra sul fatto che loro pratichino l'MMA per chi non lo sapesse l'MMA è una disciplina di lotta che fondamentalmente e chiedo scusa se ci sono esperti di MMA per la mia definizione ma cerco di dare un contesto è una disciplina di lotta che fondamentalmente unisce le regole delle altre discipline di lotta come la box e la kickboxing quindi si è creata una lotta in cui puoi usare mani, calci, piedi quello che vuoi chiaramente con delle regole per unire insieme tutti gli sport, tutte le discipline di lotta quindi è un tipo di disciplina forse la più dura tra le discipline appunto che riguardano la lotta fisica, la lotta corpo a corpo tant'è che Marco Bianchi ha raggiunto anche dei record importanti a livello regionale con l'MMA ed essi è guadagnato il soprannome di El Maldito che in spagnolo significa il maledetto mentre Gabriele Bianchi racconta che ha fatto kickboxing quando era in adolescenza e poi si è dedicato più alla box però non come il fratello a livello agonistico ma solo a livello amatoriale però entrambi condividevano la passione per l'MMA quindi il quadro che vuole ricostruire l'accusa è di questi che sono dei folli che vanno a fare le risse in più sono forti perché praticano l'MMA quindi diciamo c'è una base del fatto che loro si sentano sicuri perché loro conoscono le tecniche di lotta e quindi sono quasi invincibili e vanno a seminare il panico e devono la loro vita ai confini con la legge cioè al di sopra della legge quindi commettendo reati tra risse, violenze, spaccio, riscossione quindi sono molto conosciuti nella zona al contrario qui abbiamo chiaramente la difesa dei fratelli bianchi la difesa di Belleggia e la difesa di Pincarelli la difesa dei fratelli bianchi cerca di smentire questa cosa cioè dicono, dice, l'accusa li vuole dipingere come se fossero dei violenti a prescindere ma non è così la difesa dice che dei fratelli bianchi che il compito del processo è giudicare quello che è successo in un determinato momento e non il passato dei suoi clienti cercando di smentire un pochino la linea di coerenza violenta che vuole cercare di dare il pubblico ministero per quanto riguarda la difesa di Belleggia e di Pincarelli Belleggia si dice totalmente straneo i fatti nel senso che lui non ha proprio mai colpito Willy mentre Pincarelli dice di avergli tirato solo due schiaffi poi lo vediamo meglio nel dettaglio quando arriviamo al momento dell'aggressione quindi ci siamo fermati al fatto che la rissa tra Federico e Belleggia si sia fondamentalmente attenuata e sia arrivato Willy e dall'altro lato i fratelli bianchi con Vittorio e le tre ragazze decidono di ripartire dal cimitero dieci minuti dopo la chiamata di Michele Cercozzi che gli diceva di tornare indietro quindi arrivano i fratelli bianchi con questo Q7 insieme a Vittorio che cosa succede? Gabriele bianchi racconta di aver visto questa massa di persone quindi questa massa di persone, tutta questa calca, tutta insieme e quindi lì ha capito che quello che diceva Michele era vero cioè che c'era una rissa quindi Gabriele vede questa calca di gente scende subito dalla macchina Marco Bianchi racconta di non essere arrivato a tutta velocità ma è stato confermato da Trett e Simone il fatto che loro fossero arrivati a tutta velocità sia dallo stesso Belleggia sia da Federico sia da un altro ragazzo che si trovava all'angolo della via che sta praticamente un po' in mezzo alla strada e dice meno male che ho sentito il rumore della frenata brusca e del motore insomma tutta velocità di questa macchina che correva rispetto alle altre mi sono tolto dalla strada perché altrimenti se no mi prendevano in pieno però loro Marco sostiene di essere arrivato a 15 km orari all'interno della via quindi Cristiano che è un altro testimone che è un amico di Federico racconta di aver visto i fratelli bianchi scendere dalla macchina in maniera cioè velocemente e in maniera aggressiva con ha detto le mani aperte ha fatto proprio il gesto in questo modo quindi in tono aggressivo avete presente quando tu dici adesso ti meno e ti metti così quindi lui ha indicato proprio diciamo questa posizione di aggressività mentre Gabriele Bianchi dice che loro sono scesi dalla macchina sia agitati perché si erano resi conto che quello che diceva che gli aveva detto Michele era vero del fatto che fosse partita una rissa ed erano agitati per il loro amico e quindi sono arrivati agitati ma non in maniera aggressiva quindi i fratelli bianchi iniziano a spintonare la folla per cercare di passare avanti e Gabriele Bianchi si trova davanti Willy quindi Gabriele vede Willy e gli sferra un calcio in pieno petto facendolo volare contro la macchina quindi gli tira un calcio qui e Willy vola sbattendo contro una macchina e cade per terra infatti un testimone racconta che quel calcio non è stato un calcio da rissa perché il pubblico ministero gli dice ma quel calcio che tipo di calcio era un calcio da rissa tipo sai quando fai così oppure era un calcio diverso lui ha detto era un calcio professionale perché lui ha detto si è piegato sul bacino si è girato e ha tirato il calcio la classica mossa dell'MMA ha detto era un calcio da professionista tant'è che l'ha preso in petto con il piede aperto con la pianta del piede e Willy è volato contro una macchina parcheggiata ed è caduto per terra questa storia verrà confermata dalla testimonianza di Samuele un altro amico di Willy che testimonia dicendo si si io l'ho visto che l'ha preso in pieno petto con la pianta del piede aperta in questo modo dopodiché Willy mentre era per terra arriva Marco Bianchi e gli tira un calcio sulla testa in quel caos altre persone sono state colpite tra cui Samuele Cenciarelli praticamente Samuele Cenciarelli era un altro amico di Willy che nel momento in cui Willy ha diciamo ha sbattuto contro la macchina lui è andato verso Willy per cercare di prenderlo e portarlo via quindi lui era piegato per cercare di prendere Willy e nel momento in cui era piegato gli è arrivato un calcio qua praticamente sulla parte destra della gola del collo gli è arrivato un calcio qui ed è volato via cioè è caduto per terra non ha visto chi gli ha dato il calcio perché lui dice stavo guardando Willy io ho sentito solo un calcio che mi è arrivato qui quindi lui che fa si rialza e vede che tutti e quattro quindi che i fratelli bianchi Belleggia e Pincarelli tutti e quattro si stavano accanendo contro Willy quindi lui si è rialzato ancora ma nel momento in cui si è rialzato per riandare da Willy Gabriele lo colpisce alla mandibola e lo fa ricadere per terra Cenciarelli dice che lui ha visto tutti e quattro accanirsi contro Willy tra calci pugni veniva calpestato tutto questo mentre il povero Willy era per terra da tutti e quattro quindi il branco contro uno ed è questa la linea dell'accusa cioè loro dicono l'accusa dice che Gabriele Gabriele Bianchi ha aperto la rissa colpendo Willy per primo poi è intervenuto Marco Bianchi e poi sono arrivati tutti e quattro quindi il pubblico ministero contro appunto questo branco che ha colpito una persona indifesa a quel punto Omar racconta di essere andato dai fratelli bianchi e di aver preso Gabriele per il braccio e di urlare guarda che questo ragazzo non c'entra niente fermati, fermati, fermati quindi i fratelli bianchi si sono fermati come hanno sentito che avevano diciamo capito che questo ragazzo non c'entrasse nulla e quindi Omar continua a urlargli andiamocene, andiamocene e questa cosa è stata confermata anche da Belleggia e da Gabriele Bianchi come confermerà Samuele l'aggressione è stata molto rapida cioè l'aggressione a Willy è durata massimo 50 secondi cioè è partita con il calcio di Gabriele poi sono arrivati tutti insieme 50 secondi e è finita lì è chiaro che diciamo alcune versioni dei vari testimoni perché appunto c'erano un sacco di persone quindi vari testimoni sono stati discordanti per alcuni dettagli perché comunque come diceva appunto Samuele e poi il pubblico ministero è durata 50 secondi nessuno ci ha capito niente quindi chi ha visto una cosa chi ne ha visto un'altra però la costante è il fatto che ci entrino tutte e quattro che tutti e quattro abbiano colpito Willy questo è quello che dice il pubblico ministero quindi il pubblico ministero ricostruisce i fatti quindi l'accusa ricostruisce i fatti quindi secondo l'accusa i fratelli bianchi scendono dalla macchina raggiungono gli altri due imputati che si trovano lì Belleggio e Pincarelli si fanno spazio tra la folla Gabriele vede Willy lo colpisce immediatamente poi arriva Marco e poi arrivano tutti e quattro insieme fino a che non lasciano il corpo del povero Willy sdraiato per terra e se ne vanno via immediatamente dopo l'aggressione la difesa al contrario dà una ricostruzione diversa e qui vi dico che i fratelli bianchi e Belleggio e Pincarelli si accusano a vicenda e adesso vediamo il perché c'è già una cosa discordante rispetto a quello che raccontano i fratelli bianchi rispetto a quello dell'accusa ovvero l'accusa dice che è stato Gabriele a tirare il primo colpo con il calcio al petto e poi Marco Bianchi è intervenuto con il calcio alla testa mentre Willy era per terra invece Marco Bianchi dice di essere stato lui il primo a colpire cioè lui dice noi siamo scesi dalla macchina agitati ci siamo fatti spazio tra la folla io ho visto Willy e gli ho tirato un calcio ma non al petto gliel'ho tirato qui sul fianco destro qui sul linguine perché si giustifica lui dicendo che lui sa che facendo MMA i calci che dà sono pericolosi e quindi lui non si sognerebbe mai di colpire una persona sapendo i danni che può creare quindi dice io so dove colpire per far male sia a una persona ma non per ucciderla quindi secondo la difesa è stato Marco Bianchi a colpire per primo Willy e non Gabriele tirandogli un calcio sul linguine e non sul petto Gabriele racconta di aver visto Samuele Cenciarelli mettersi in mezzo tra suo fratello Marco e Willy e quindi a un certo punto lui è intervenuto ed è stato lui a colpire al collo Samuele però anche qui diciamo innanzitutto Gabriele dice che lui è intervenuto perché aveva paura che questo Samuele che era un ragazzo abbastanza grosso potesse far del male o a Omar o a suo fratello Marco in particolare perché lui si trovava si era messo vicino insomma c'erano Willy Samuele e Marco non sta secondo me molto in piedi questa cosa perché comunque ma vuoi o non vuoi insomma Marco Bianchi faceva MMA quindi io non penso che nel momento in cui tu sai le capacità di tuo fratello che comunque è uno dei campioni regionali di MMA tu possa aver paura che un ragazzo normale insomma lo possa mettere al tappeto però loro la difesa ha insistito molto su questa cosa quindi sul fatto che Gabriele si è intervenuto perché aveva paura che il fratello fosse in pericolo e ha colpito Samuele Cenciarelli sul collo ma lui dice io l'ho colpito solo una volta e il pubblico ministero infatti gli dice ma guarda che Samuele ha detto che è stato colpito due volte e lui lo saprà se è stato colpito e lui ha detto no no io l'ho colpito solo una volta perché poi Samuele si è rialzato e ha detto io non c'entro niente io non c'entro niente quindi nel momento in cui lui mi ha spiegato che non c'entrava niente ho capito che avevo fatto un errore e mi sono fermato quindi anche qui la cosa si discorda da quello che dice diciamo la parte dell'accusa qui arriviamo al punto focale cioè Omar difende i fratelli bianchi Omar dice che i fratelli bianchi si sono fermati nel momento in cui lui gli ha urlato guardate che quel ragazzo non c'entra niente quindi i fratelli bianchi si sono fermati quindi praticamente a detta invece della difesa Marco ha tirato il primo calcio a Willy sull'inguine poi Gabriele ha colpito Willy ma si sono fermati subito perché è intervenuto Omar come appunto testimoni anche Omar oltre ai fratelli bianchi gli ha detto guardate fermatevi perché questo ragazzo non c'entra niente quindi loro si sarebbero fermati si sono girati verso Willy e hanno visto che Willy si stava rialzando in quel momento secondo la linea difensiva dei bianchi sono arrivati Bellegge e Pincarelli e hanno iniziato a colpirlo ripetutamente mentre Willy era per terra provocandone poi la morte quindi i fratelli bianchi dicono noi si abbiamo colpito ma non abbiamo sferrato il colpo mortale mentre Pincarelli dice di aver tirato solo due schiaffi a Willy dice io gli ho tirato solamente due schiaffi perché poi sono stato spinto per terra e sono proprio caduto accanto a Willy e questo e questo è confermato da Omar che dice si l'ho spinto io perché volevo toglierlo da sopra Willy quindi io l'ho spinto perché Pincarelli lo stava colpendo e l'ho spinto via mentre Pincarelli dice no io gli ho solo tirato due schiaffi e poi Omar mi ha spinto mentre Bellegge dice io assolutamente non ho colpito nessuno cioè io proprio Willy non l'ho proprio colpito sono stati esclusivamente i fratelli bianchi a colpirlo e a provocarne la morte quindi qui cambia la linea della difesa è Marco sfera il primo colpo e non Gabriele parte la rissa ma i fratelli bianchi si fermano subito vedono Willy rialzarsi confermato anche da Omar e poi arrivano Bellegge e Pincarelli che lo colpiscono a morte questa è la linea della difesa ma la difesa di Pincarelli interviene per cercare di screditare Omar come testimone perché che succede quando poi vengono fermati tutti dopo la rissa la polizia prende i fratelli bianchi quindi l'avvocato di Pincarelli dice se tu sapevi che i tuoi amici bianchi non erano stati a dare il colpo finale a Willy nonostante la polizia li avesse accusati proprio di questo perché non si è andata la polizia a raccontare la verità perché Omar non ha testimoniato subito e Omar risponde perché avevo paura dell'impatto mediatico che stava avendo questa vicenda avevo paura di finirci in mezzo ma questa storia non regge perché l'avvocato di Pincarelli ricaccia un post che Omar ha scritto su facebook in cui dava proprio ragione ai bianchi e diceva che Belleggio e Pincarelli erano gli unici colpevoli e quindi l'avvocato fa una giusta osservazione dice quindi tu col tuo nome e cognome con tutta la vicenda mediatica che ci stava hai scritto un post del genere su facebook che infatti poi è anche finito sui giornali quindi questa storia dell'impatto mediatico non c'è e ha cercato di screditare un po' Omar perché lui sta appoggiando i fratelli bianchi contro Belleggia e Pincarelli perché praticamente tutti stavano cercando di evitarsi la condanna finale proprio dell'omicidio ma volevano prendersi solo il concorso di colpa fondamentalmente questo ecco perché si stanno accusando a vicenda siamo arrivati al punto in cui i fratelli bianchi e Belleggia e Pincarelli scappano via lasciando a terra il corpo di Willy Federico racconta che sono poi arrivate altre persone a cercare di aiutare Willy che nel frattempo aveva le convulsioni quindi cercavano di girarlo da un lato di dargli l'acqua insomma di lanciargli l'acqua in faccia ma come sappiamo i soccorsi sono stati inutili infatti un carabiniere che perché tutto questo è successo a 150 metri dalla caserma dei carabinieri di Colleferro quindi un carabiniere ha detto che ha sentito a quell'ora alle 3.20 del 6 settembre del 2020 ha sentito delle urla che non erano urla della movida erano urla più forti urla si vedeva di disperazione quindi si è andato uscito da dietro la caserma e a 15 metri dal perimetro della caserma ha visto il corpo per terra di Willy con 5-6 persone attorno che insomma cercavano di aiutarlo un testimone un ragazzo ha raccontato di aver visto Willy sul marciapiede ha detto boccheggiare come un pesce fuor d'acqua quindi insomma Willy non ce la fa e muore dopo un pestaggio violentissimo e ci sono state tre perizie dei medici legali tutte quante sembrano dire la stessa cosa quindi dicono che nonostante Willy fosse comunque tu me hai fatto all'esterno il suo corpo dentro era messo molto peggio il medico legale lo ha definito completamente devastato infatti lui dice ve lo leggo che sono stati rilevati quattro pugni in viso un calcio o un pugno molto violento al collo che ha lesionato la carotide un calcio che ha lesionato cuore e polmoni due calci nella parte bassa della schiena uno a destra e uno a sinistra quindi uno dei calci sembra essere compatibile con quanto dice l'accusa cioè di Gabriele che gli lancia un calcio qui sul petto il medico legale infatti dice che la morte di Willy è dovuta a una grave insufficienza cardiorespiratoria e lesioni del glomo carotideo quindi i medici legali non hanno dubbi Willy è morto per i colpi ricevuti tirati con violenza tra cui i decisivi che sono stati quelli al petto che gli hanno causato l'aritmia fatale e quello alla gola che ha concorso alla sua morte in vista di questo il pubblico ministero chiede la pena per gli imputati la richiesta di condanna per l'ufficio di procura richiede è la seguente Bianchi Marco Ergastro Bianchi Gabriele Ergastro Belleggia Francesco 24 anni di reclusione Pencarelli Mario 24 anni di reclusione con le conseguenze di lei quindi arriva la condanna la corte in nome del popolo italiano dichiarano Bianchi Gabriele Bianchi Marco Fincarelli Mario Belleggia Francesco colpevoli del delitto loro stifo e rubrica esclusa la gravità dei motivi a bietti concesse le assinuanti generiche ai suoi di Fincarelli e Belleggia ritenute violente dal residuo di davanti condanna Bianchi Gabriele Bianchi Marco la pena del gaspolo Fincarelli Mario la pena di anni 21 di reclusione Belleggia Francesco la pena di anni 23 di reclusione sono stati quindi condannati tutti e quattro e tutti e quattro hanno la possibilità di altri due gradi di appello quindi ci sarà appunto il primo ci sarà l'appello e poi la corte di Cassazione in cui potranno vedere se riescono a farsi ridurre la pena i fratelli Bianchi nel frattempo hanno chiesto protezione perché hanno paura di ripercussioni all'interno del carcere perché che succede a quanto pare anche diciamo tra detenuti esistono delle regole e alcuni crimini vengono puniti anche secondo la legge dei detenuti cioè quando il crimine è futile possono essere diciamo i detenuti possono punirti e pensate anche per esempio ai pedagli che quando entrano in prigione ci rimangono insomma c'è un codice d'onore anche tra i detenuti i fratelli Bianchi quindi hanno preso l'ergastolo sperando che non gli venga ridotta nessun tipo di pena per quanto riguarda la buona condotta o le pene in appello eccetera perché hanno preso l'ergastolo la legge italiana punisce l'omicidio con futili motivi nel senso l'omicidio è sempre punito e non c'è mai una vera giustificazione all'omicidio ma l'omicidio viene punito con le cosiddette aggravanti cioè l'aggravante di una reazione spropositata a quella che era la situazione come è stato il caso dei fratelli Bianchi cioè il fatto che abbiano attaccato un ragazzo che non solo non c'entrava nulla completamente indifeso e che si siano accaniti su di lui quindi questo gli è costato l'ergastolo perché hanno avuto sono stati accusati di omicidio con l'aggravante abbiamo ripercorso quello che è stato il processo non è stato semplice vi dico la verità ripercorrere tutto scrivere il discorso mi sarò fatta un sacco di piantarelli perché comunque insomma si stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni con una morte veramente terrificante quindi io spero di non avervi angosciato troppo anche se chiaramente ne dubito fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate se ho saltato qualcosa vi chiedo scusa magari fatemelo sapere se avete delle informazioni in più scrivetemelo nei commenti scrivetemi nei commenti quello che volete ci vediamo sabato per il per diciamo un approfondimento su un argomento per la rubrica te lo racconto quindi buon giovedì ci vediamo sabato ciao ciao